Dal 1 gennaio 2002 l'euro diventerà la nostra moneta. I risparmi conservati in banca saranno cambiati in euro dalla stessa banca, automaticamente. I soldi che tenete a casa devono essere portati in banca entro il 28 febbraio, dove saranno cambiati in euro senza spesa alcuna. Dopo le lire potranno essere cambiate solo nelle filiali della Banca d'Italia. Oggi puoi pagare con i soldi il Bancomat, la carta di credito e gli assegni. Presto ci sarà l'euro e potrai sempre pagare con i soldi il Bancomat, la carta di credito e gli assegni. Arriva l'euro. Cambiano i soldi. Non cambia la vita. Cambiano i soldi. Non cambia la vita.